Qualche giorno fa sono stati avvistati dei lupi che transitavano qui, la cosa vi preoccupa? Avete notato dei segni, qualcosa della loro presenza? Ma in modo diretto no, io di colore età non ho visto niente, ho visto i caprioli qualche mese fa, quelli erano anche carini, da qualche mese ho sentito, anche i vicini ma anche qui da noi, che qualche gatto ha avuto dei problemi da parte di animali, non cani o cose del genere, ma sicuramente animali più grossi, questo l'ho sentito. In questi giorni anche ieri sera avete visto dei lupi, siete preoccupati per questa cosa? Tantissimo, perché noi abbiamo del bestiame che se entrano quelli lì fanno un macello, tant'è vero che la settimana scorsa lì nel vicino qua sono entrati, almeno sicuramente solo loro, hanno fatto una strada di capri, io mi auguro che da me non entrino, perché se entrano da me fanno un disastro, dopo se non faccio la buca ai lupi la faccio agli animalisti, perché fanno pubblicità che sta piena di salute, ma quando noi ci hanno mangiato tutto il bestiame, chi ci pari i danni? Quanti capi avete? Noi abbiamo sui 600-700 capi qui di Orche, quando saranno tutte, non so chi deve intervenire, ma io anche stanotte ho fatto un giro con la macchina, perché sa, questi costano i soldi, sia per comprarli, sia per rallevarli, quando sono entrati che qui si entrano fanno un macello, poi mi puliscono, fanno pulire, sicuramente vengono giù dal monte, perché sappiamo benissimo che qui 15 giorni fa hanno visto le pedate che hanno fatto la fuga a un cinghiale, qui sotto cartucito, praticamente sono levati un po' dappertutto. Io non li ho visti, per dire la verità, ci sono i cani di notte che abbaiano, ma altre cose non ho visto. Avete animali? Sì, i bestiame, i bovine, tante cose, tutti in stalla. Comunque hanno detto che ci sono, io non li ho visti, per dire la verità, ma dopo non lo so, perché sono un po' urbi, non si vanno a vedere. Tre lupi erano abbastanza grossi, il problema qui è solo che non si campa più, questa cosa dei lupi che sta diventando sempre più seria, qua di sotto uguali, abbiamo mangiato le capre, pericolose per i bambini, tutto qua.